C'è un altro Gesù? Il vero Gesù, Spirito e Vangelo. Il vero Gesù, Spirito e Vangelo. Il vero Gesù è un Spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Ancora oggi, molti credenti cristiani si lasciano ingannare facilmente da queste tre domande. Chi è Gesù? Cosa fa lo Spirito Santo? Cosa dobbiamo fare per essere salvati? Chi è Gesù? Gesù è il Messia promesso, la parola di Dio incarnato, il nostro Signore è Salvatore. 1. La sua nascita. Maria disse all'angelo, come avverrà questo, dal momento che non conosco uomo? L'angelo le rispose, lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua, perciò, anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, figlio di Dio. 2. I suoi miracoli. Gesù di Nazareth. Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come Egli è andato dappertutto facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. 3. Il suo messaggio. In verità, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato a vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. 4. La sua morte. Dio invece mostra il proprio amore per noi in questo, che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. 5. La sua risurrezione. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. 6. Il suo regno. Poiché bisogna che Egli regni finché abbia messo tutti i Suoi nemici sotto i Suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte. 7. Difatti, Dio ha posto ogni cosa sotto i Suoi piedi. 7. Il suo ritorno. Vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero, e per aspettare dai Cieli il Figlio Suo che Egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira imminente. Cosa fa lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è Dio stesso che dimora con i credenti cristiani. 1. Egli risiede. Voi non siete nella carne ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, Egli non appartiene a Lui. 2. Egli riempie. Non ubriacatevi. Il vino porta alla dissolutezza. Ma siate ricolmi di Spirito. 3. Egli assicura. Voi non avete ricevuto uno Spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito di adozione, mediante il quale gridiamo, Abba! Padre! Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro Spirito che siamo figli di Dio. 4. Egli manifesta. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. 5. Egli trasforma. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. 6. Egli guida. Se bevete secondo la carne voi morrete, ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi bevrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. 7. Egli intercede. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Cosa dobbiamo fare per essere salvati? È Gesù che ci salva. Riceviamo la sua salvezza per fede. 1. Con la sua morte. Essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. 2. Con la sua risurrezione. Noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù, nostro Signore, il quale è stato dato a causa delle nostre offese ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. 3. Con il suo perdono. Così è scritto, che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe risorto dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti. 4. Con la sua vita. Gesù può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro. 5. Con il suo spirito. La legge dello spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. 6. Ci la nostra fede. È per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. 7. Non dai nostri sforzi. L'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù, e abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. 8. Tutte le false religioni e tutte le filosofie umane insegnano un altro Gesù, offrono uno spirito diverso o richiedono uno sforzo umano per essere salvate. 9. Tieniti stretto al vero Gesù, vivi secondo il vero spirito e credi nel vero Vangelo. Allora sarai salvato.